cielo grigio su cielo grigio su no sbagliato canzone ai 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 sbagliato canzone c'è un cielo meraviglioso siamo alle regole di malosco e c'è un cielo stupendo guardate che giornata d'inverno meravigliosa neve 1400 metri all'altezza vicino al passo della mendola vicino salendo dal paese di malosco alta valle di nono posto meraviglioso dove si mangiano cose stupende e pasti di montagna tortelli di patate torta di patate polenta e cervo polenta e funghi polenta e formaggio polenta e quello che volete prenotate per i tortelli di patate e per la torta di patate qui nel rifugio regole oppure nel rifugio falchetto oppure la monteson che non si vede mai di dietro tutti amici tutti a pari merito li ho indicati da destra a sinistra da sinistra a destra vabbè è uguale tanto dovevo parlare di camper però mi sono perso a presentarvi una località dell'alta valle di nono meravigliosa e mi dite ma che ce fai con un furgone così anonimo tu che giri sempre con sti camper vabbè niente qui stiamo presentando sky up sky up siamo rivenditori di sky up cos'è sky up è una cosa veramente interessante un tetto a soffietto per il ducato ducato 5 metri 40 6 metri 6 metri 40 6 metri 36 per cui un tetto sollevabile tetto a soffietto stile vestfalia già che si chiama così in italia questa cosa qui lo presentiamo su un camper che è un pseudo camper diciamo è quello che sapete stiamo progettando stiamo sviluppando per l'italia qui ancora una bozza è un cargo camper fatto su ducato per il mercato italiano poi ne parleremo un'altra volta qui parliamo di sky up sky up vi faccio vedere con una manina sola se non mi faccio male nel senso se non mi cade il telefono come mi tanto accade sac sac liberiamo e manina qua ciao guardate che roba meraviglia cosa abbiamo qua sopra un lettone qui adesso non vado ad aprire tutto perché lo sapete c'è una finestra da questa parte una finestra a quest'altra parte una con la zanzariera una con il nylon questa qui davanti anche con la zanzariera che si può togliere sia la zanzariera che la copertura per cui praticamente tutto qui abbiamo un lettone da due metri per un metro e 35 e cosa vi dirò ancora di più che ha le molle a tazza per cui una sospensione meravigliosa un cuscino un cuscino scusate un batterasso anche sottile se vogliamo però di ottima qualità con le molle a tazza sotto una meraviglia per dormire in un posto così scusate la tosse ma inverno ogni tanto capita allora vi dirò di più che una cosa stupenda è il fatto che metti d'estate o quando si vuole si può slacciare come si dice aprire la zip oltre che dei pantaloni per mettersi in costume ma anche della 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 tenda lino qua sopra della scusate la tenda diciamo chiamiamola così volgarmente del tetto a soffietto di modo da dormire lì sopra sul letto così in assoluta libertà soltanto non per terra come fosse sotto una tettoia sotto una pergola sotto inventatevela voi poi ci diventa un po freddo in un attimo la si richiude e siamo a posto guardate che meraviglia questo prodotto studiato e realizzato completamente in italia a roma con soluzioni ingegneristiche veramente talmente semplici che sembrano semplici ma sono frutti frutto di studi veramente approfonditi fatti bene di sperimentazioni frutto di un lavoro molto impegnativo per ottenere un compromesso fra funzionalità semplicità di montaggio è veramente veramente eccezionale dobbiamo dare atto che noi italiani se ci mettiamo sappiamo fare le cose molto bene allora monteremo noi questi tetti qua su in alta italia qui a fondo nel laboratorio di qualche collega vediamo per per chiunque voglia sul suo ducato anche fosse un ducato autovettura anche fosse un ducato non deve essere un camper intendiamoci può essere il ducato di tutti i giorni vostro che poi gli mettete dove poi andate a mettere questo tendalino questo scusate soffietto tetto a soffietto per utilizzarlo poi anche come camper per cui qui praticamente si apre un mondo che probabilmente non si è mai considerato nel senso che uno dice boh il furgone per lavoro e basta però noi sappiamo benissimo che il furgone è una cosa molto più intelligente e gestibile che essere soltanto un furgone da lavoro eleviamo un attimino la funzione e facciamo servire questi furgoni anche a livello ricreativo bene signori cosa vi devo dire dalle regole di malosco da questo posto meraviglioso dove siamo venuti a presentare sky up chiamateci camper tutti i giorni per cui figuriamoci se il furgone da lavoro con questo affare diventa ancora di più con questo tetto a soffietto diventa ancora di più un camper tutti i giorni secondo il nostro hashtag autoroen camper tutti i giorni sky up installazione di sky up ciao a tutti e buon camper tutti i giorni a tutti dalle regole di malosco a tutti i giorni a tutti i giorni a tutti a tutti i giorni a tutti i giorni a tutti